E' tornata la calma nel Sulcis dopo l'ondata di maltempo d'inizio primavera. E' iniziata la conta dei danni ma preoccupano anche le conseguenze che potrebbero aversi nelle località di mare sulla prossima stagione estiva. Si riparla del deposito unico delle scorie nucleari. Le affermazioni del ministro Carlo Calenda sulla prossima pubblicazione del decreto con le aree potenzialmente idonee hanno scatenato le prime reazioni. Nuovo appuntamento domani sera al Teatro Centrale con la rassegna Carboni 80. In scena lo spettacolo Nulla succede per caso, una storia cagliaritana sul bene e sul male. Di e con Andrea Rosas, regia di Monica Porcedda. Carboni e Dorgalese si contenderanno la Coppa Italia di promozione. La squadra mineraria si è qualificata eliminando il Sant'Erena Quartu. La Dorgalese, campione in carica, ha superato il Porto Rotondo. Ben ritrovati a tutti i telespettatori per questa nuova edizione del nostro TG40, oggi giovedì 22 marzo 2018. E' tornata la calma nel Sulcis, investito da un'ondata di maltempo in atteso ad inizio primavera. Vediamo in merito un servizio sulle conseguenze provocate dalla pioggia e soprattutto dal fortissimo vento che per diverse ore ha spirato in tutto il sud ovest sardo. Vediamo allora il servizio. Ecco come si presentava ieri pomeriggio la prima spiaggia di Portopino dopo la violentissima libecciata abbattutasi sul basso Sulcis nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 marzo, primo giorno di primavera. Le alghe hanno completamente ricoperto l'arenile arrivando a ridosso del muraglione che divide la prima dalla seconda spiaggia ad un'altezza di circa 2 metri. Considerato il periodo dell'anno in cui il fenomeno si è verificato, non nuovo purtroppo negli ultimi anni a Portopino, c'è sicuramente di che preoccuparsi in vista dell'ormai imminente stagione estiva, anche perché sono noti i vincoli che regolamentano la movimentazione della Posidonia. Non si esagera affermando che oggi è a rischio la stagione, con conseguenze sia per le decine di migliaia di frequentatori della splendida spiaggia, sia per l'economia che ruota intorno a Portopino dal mese di maggio al mese di settembre. Non è migliore la situazione della spiaggia di Portobotte, dove la mareggiata ha ricoperto l'arenile ed ha invaso anche la strada di accesso. Anche in questo caso, anche se la frequentazione non è certamente avvicinabile a quella di Portopino, il rischio che lo stato in cui si trova oggi possa compromettere in toto in parte la stagione estiva è concreto. Il vento fortissimo ha provocato tanti disagi e ingenti danni in tutto il territorio. A Portigè e Due Ciclopi, nell'isola di Sant'Antioco, le onde si sono levate altissime sulla scogliera. Passata la fase più critica del maltempo che ha colpito il sud ovest della Sardegna negli ultimi due giorni, anche se le temperature si mantengono nettamente al di sotto delle medie stagionali, un po' ovunque si fa la conta dei danni che in molti casi hanno colpito singole famiglie, con conseguenze ben immaginabili in termini economici. E' il caso della famiglia di Cisella Medda, residente nella frazione di Cucurusu-Ergiu, nella zona di Cortoghiana-Miniera, alla quale il vento fortissimo nel tardo pomeriggio di martedì ha scoperchiato il tetto dell'abitazione. Le fotografie che scorrono sui teleschermi sono relative a quanto è accaduto. Sul posto in tempi compatibili con tutte le chiamate ricevute nella zona si sono recati i vigili del fuoco, che hanno detto ai proprietari di chiamare una ditta specializzata per lo smaltimento dei materiali e di mettere in sicurezza il tetto. Si riparla del deposito unico delle scorie nucleari dopo le affermazioni del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, secondo le quali entro la prossima settimana verrà pubblicato il decreto per la Carta nazionale per le aree potenzialmente idonee al deposito nucleare di superficie. Il portavoce del progetto Autodeterminazione, Antony Muroni, ribadisce il no ad ogni ipotesi che la Sardegna venga individuata quale area idonea al deposito unico delle scorie nucleari. Per questo Autodeterminazione mobilita tutte le sue componenti storicamente impegnate nella battaglia. La nostra terra ha già pagato a caro prezzo le conseguenze della sovrabbondante presenza di servitù militari, prosegue Muroni, con tutti i danni che queste ultime hanno causato al territorio, alla società, alla cultura e all'economia. A partire dall'inquinamento, i sardi non accetteranno a nessuna condizione l'ipotesi che l'isola diventi anche una patumiera radioattiva. Cambiamo argomento. La Commissione Sanità e Politiche Sociali, presiduta da Raimondo Perra, a CPS, ha approvato con l'assenzione della minoranza il Piano per l'Emigrazione 2018-2020, che prevede un investimento di oltre 2,1 milioni di euro per anno. Il Piano, ha spiegato nella sua relazione l'assessore del lavoro Virginia Mura, valorizza la realtà della nostra immigrazione, sia come elemento dell'identità sarda nel mondo che come soggetto propulsivo di un sistema di nuove relazioni economiche. commerciali, culturali e sociali. Infatti la maggior parte delle risorse è destinata alla realizzazione di progetti coerenti con questa missione e sostenuti o dalla Regione in forma diretta o cofinanziati con l'intervento delle varie istituzioni pubbliche e private dei paesi in cui operano i circoli. Con la nuova programmazione triennale, ha concluso Virginia Mura, ci proponiamo in definitiva di dare risposte nuove ad un fenomeno, come quello dell'emigrazione sarda nel mondo, che in questi anni è profondamente cambiato. Nel dibattito hanno preso la parola i consiglieri regionali Emilio Usala, del gruppo misto Rosso Mori, Giorgio Oppi, Udc, Rossella Pinna, PD e Mariano Contu, Forza Italia. Ieri pomeriggio, alla sede di San Giovanni Suergiu dell'Unione dei Comuni del Sulcis, su richiesta dei riformatori sardi del Sulcis Iglesiente, ha ospitato un incontro tra l'Unione dei Comuni del Sulcis e la delegazione del coordinamento dei riformatori sardi del Sulcis Iglesiente. Al centro dell'incontro si legge in una nota del coordinatore del Sulcis Iglesiente, Francesco Loi, e del coordinatore del gruppo di lavoro per la nuova piattaforma, Peppino Larosa, l'analisi della grave crisi economica e sociale che investe il territorio, gli strumenti che possono essere utilizzati per affrontarla, la necessità e l'urgenza di costruire una nuova piattaforma condivisa dal territorio per affrontare l'emergenza lavoro e indicare le prospettive di sviluppo da fondare, come proposto dal coordinamento dei riformatori sardi. È stato preso l'impegno di portare avanti il confronto sulle proposte e gli obiettivi specifici dopo il necessario approfondimento da parte dei sindaci. Bentornati in studio. Si è tenuto ieri presso l'autorità portuale di Cagliari il workshop di presentazione del progetto Cagliari Port 2020. Vitro Ciset, capofila di un gruppo di importanti imprese locali in partnership con l'autorità portuale di Cagliari, ha presentato, anche attraverso delle dimostrazioni dal vivo, i risultati del progetto Cagliari Port 2020, che è tra i progetti vincitori dell'avviso del Ministero dell'Università e della ricerca. Il progetto, realizzato da Vitro Ciset, capofila, e da CRS4, dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica e quello di Matematica e Informatica dell'Università di Cagliari, dal Consorzio Trasporti e Mobilità, CTM di Cagliari, da Cagliari International Container Terminal, CCT, e da un'associazione temporanea di imprese, propone lo sviluppo di modelli, tecnologie e strumenti per la gestione integrata dell'ecosistema logistico formato dal porto, sia storico che industriale, e dall'area vasta di Cagliari, affrontando in modo organico sia le tematiche relative ai movimenti interni dell'area portuale, sia quelle relative ai flussi di passeggeri e merci. La Sala Riunioni del Centro Anziani di Via Brigata Sassari a Carbonia ha ospitato sabato sera un convegno organizzato dalla Segreteria del Sindaco Spicci GL sui temi legati al servizio sanitario, con particolare riferimento alle recenti novità contenute nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato dal Consiglio regionale della Sardegna e ai riflessi dello stesso su una particolare categoria sociale, quella degli anziani. Dopo la relazione introduttiva della Segretaria Rinalda Fadda a tenere la relazione è stato chiamato Salvatore Arca, dipendente Aslo in pensione, responsabile sanità dello Spicci GL del Succis Iglesiente. E seguito il dibattito erano presenti tra gli altri il Presidente regionale dello Spicci GL Marco Grecu e la Presidente regionale dell'Hauser Maria Francesca Chirchi. Vediamo ora un'intervista con Giancarlo Cancedda, segretario territoriale della D-Consum sulla class action attivata contro Abanoa. Vediamo insieme. Bene, in questi giorni si sente parlare molto spesso di class action contro Abanoa. Cos'è la class action? La class action è un'azione collettiva, una causa collettiva presso contro un ente per un problema che tanti cittadini hanno avuto. Quindi la possibilità invece di fare una causa singola per ogni cittadino, un'unica causa per un problema di interesse generale. In questo caso la class action o causa collettiva contro Abanoa è avverso le fatture dei conguagli o partite regresse 2005-2011 che Abanoa ha chiesto a tutte le famiglie sarde, circa 750 mila, per un importo globale di circa 120 milioni. Ora le famiglie si sono ribellate a questa richiesta, Abanoa ha respinto i ricorsi, allora si è fatto richiesta al Tribunale di Cagliari di avere la possibilità di fare un'unica causa contro Abanoa. Il Tribunale, prima quello di Nuoro, ha accettato e ha colto l'inibizione contro Abanoa, pertanto tutti debbono sospendere il pagamento delle fatture dei conguagli regressi e Abanoa deve astenersi dal minacciare dello slaccio. Chiunque vuole presentare causa e lo deve fare entro fine maggio, deve compilare dei moduli di adesione, allegare documenti di identità, allegare fotocopia della fattura ed eventuali bollettini se questi hanno pagato. È una prassi che si può fare liberamente, cioè personalmente, uno compila i moduli, li estrapola da internet, compila i moduli, fa le copie di tutti i documenti e gli spedisce per raccomandato al Tribunale o allo studio di Ballero di Cagliari o li porta personalmente. O altrimenti può attraverso le associazioni adconsum in prima linea presentarsi presso l'ufficio adconsum e gli addetti faranno tutto, prepareranno il materiale, lo faranno sottoscrivere, fotocopie, raccoglieranno i dati, li presenteranno al Tribunale tramite file che verranno prodotti per ogni richiesta. Il tutto va fatto entro il 20 maggio del 2018 e la speranza che l'adesione sia massiccia perché ovviamente dimostreremo che siamo scontenti di questo comportamento che l'ente gestore dell'acqua purtroppo pubblica e azionisti comuni e regioni sta adoperando nei confronti dei cittadini. Quindi vi aspettiamo sia per la modulazione o solo per eventuali informazioni. Di questo e di altri argomenti parleremo stasera nel corso del programma a tutto campo a cura di Giancarlo Cancedda che andrà in onda dalle ore 21. È Sardo il birrificio che si aggiudica il premio come miglior birrificio dell'anno. Con quattro medaglie d'oro e una medaglia di bronzo il birrificio di Cagliari BDC conquista la Catalonia al Barcelona Beer Challenge 2018. Alla terza edizione della competizione spagnola il birrificio Sardo domina sulla scena internazionale e strega tutti con le birre Bidanoa, Tuvigedu, Figu Morisca, Mutafumiada e Sant'Elia. Marco Secchi, fondatore birraio del BDC e del suo team, hanno festeggiato questo nuovo e prestigioso traguardo con una coppa consegnata direttamente dal birraio del birrificio americano Founders, vincitore dell'edizione 2017. È così che il birrificio della città di Cagliari celebra i suoi primi dieci anni di attività. E in programma domani sera al Teatro Centrale di Carboni allo spettacolo Nulla succede per caso, una storia cagliaritana sul bene e sul male di Econ Andrea Rosas, regia di Monica Porcedda, nell'ambito del circuito multidisciplinare dello spettacolo della Sardegna. Gian Paolo Cironis. Nel segno di Sergio Azzeni per la stagione di prosa 2017-2018 organizzata dal CEDAC, si ispira a Il vento soffia dai bastioni, dai sogni della città bianca, edizione Il Maestrale, l'originale avvincente Nulla succede per caso, una storia cagliaritana sul bene e sul male di Econ Andrea Rosas per la regia di Monica Porcedda, in cartellone domani 23 marzo alle 20.45 al Teatro Centrale di Carboni, nell'ambito del circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Una trama in noir tra inquietudini e delitti per un intrigante monologo messa in scena della Cernita Teatro con disegno lucidi di Gian Pietro Guttuso e costumi di Lucia Longu. Sotto riflettori Andrea Rosas, autore ed interprete di una partitura per voce e sola impreziosita da una evocativa colonna sonora curata dallo stesso artista. Viaggio nei labirinti della mente e del cuore con la pièce che indaga tra verità nascoste e segreti inconfessabili, tra l'immagine suggestiva del volo e l'idea della caduta, che inevitabilmente segue a ricordarci che siamo creature terrene e soggette all'errore, scardinando certezze infondate, ribadendo il peso del dubbio davanti agli enigmi dell'esistenza. Il vivido affresco tracciato dallo scrittore, che ritrae una città con i suoi quartieri separati da confini invisibili, gravidi di memorie tra le antiche mura e il porto, riaffiora in Nulla succede per caso, tra la Roma salmastro e quei venti impetuosi, tanto che si può credere abbiano la forza di strappare un uomo dalle sue radici, figurarsi da un baluardo e precipitarlo come in un mito sull'ira degli dei. Tra passato e presente, il protagonista si muove come sull'orlo di un baratro, cercando di districarsi tra timori e sospetti, intuizioni pericolose, rimorsi e rimpianti, in quel tempo dell'attesa in cui si compie in lui un mutamento sottile ma irreversibile, finché a quel demone, quella febbre che lo divora, non ne rompe all'esterno come un fiume inarrestabile. In una scrittura che è come un canto, una musica, un blues struggente e graffiante, Sergio Azieni fa affiorare l'eterno dilemma dell'uomo, spesso preda di incubi e superstizioni, ma comunque capace di libero arbitrio, e dunque di scegliere, di decidere per sé tra il bene e il male, di stabilire confini morali ed etici e di infrangerli, pur sapendo quale sia il prezzo da pagare. Siamo allo sport. Carbonia e Dorgalese sono le squadre finaliste della Coppa Italia di promozione regionale. Il servizio. Carbonia e Dorgalese sono le due squadre finaliste della Coppa Italia di promozione regionale. Si contenderanno il prestigioso trofeo nella finale unica in programma il prossimo 25 aprile sul campo del Centro Federale di Sarodia a Oristano. La Dorgalese è la squadra campione in carica, avendo vinto la finale dello scorso anno con il Guspini Terralba, formazione poi promossa in eccellenza, ripescata come vincitrice della Coppa Primavera. Per il Carbonia di Andrea Marongiu si tratta della seconda finale nelle ultime tre stagioni, dopo quella persa il 13 aprile 2016 ai calci di rigore con il Bosa, poi promosso in eccellenza eppure ripescato dopo il secondo posto nella stagione regolare. Ieri pomeriggio il Carbonia ha pareggiato 2-2 la semifinale di ritorno con il Sant'Elena dopo aver vinto la partita riandata per 2-1 sul campo, risultato poi tramutato in 3-0 dal giudice sportivo perché il Sant'Elena ha impiegato un calciatore squalificato, Danilo Lepoli. Le immagini che state seguendo sono relative alla recente partita del Carbonia di campionato con il Carloforte. Il Sant'Elena è passato ieri in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Alessio Cossu, ma il Carbonia ha saputo capovolgere il risultato nel secondo tempo con una doppietta di Marco Foddi. Nel finale al 44esimo il quartese testa ha fissato il risultato sul definitivo 2-2. A Dorgali la squadra di casa ha resistito ai tentativi di rimonta del Porto Rotondo, vicecapolista in campionato nel girone B, la dorgalese viceversa e non è in classifica e dopo aver subito un gol lo ha pareggiato strappando il pass per la finale con il Carbonia. La partita di Villa Peluccio era iniziata alle 16, quella di Dorgali alle 17. Risultati a sorpresa nella quarta giornata di ritorno della seconda fase del campionato di Serie C Silver di basket maschile. Le due squadre sassaresi del girone Basket Sant'Orsola e Seftorres hanno battuto le due capolista, Automec Calasetta e Ferrini, De Logu Legnami Quartu, rispettivamente per 100-11 a 110 dopo un tempo supplementare di 94-90. In conseguenza di questi risultati la classifica al vertice resta immutata con Automec Calasetta e Ferrini, De Logu Legnami appagliate con 36 punti, frutto di 18 vittorie e tre sconfitte a testa. Seguite sempre dal basket Antonianum che pure è stato sconfitto sul campo dell'Esperia per 84-67. Sabato sera alle 18 l'Automec Calasetta ospiterà l'Esperia. Il nostro telegiornale anche per oggi è concluso, io vi lascio come di consueto le previsioni meteo per la giornata di domani. In seguito andrà in onda e Noas in curzu, il nostro telegiornale in lingua sarda condotto da Guido Cadoni. Questa sera l'appuntamento vi ricordo quindi alle 21 e con a tutto campo a cura di Giancarlo Cancedda. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il TG40 e per le prossime edizioni. Arrivederci. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il TG40.